Successo per l'incontro con Esperienze nel Mondo, organizzato dal gruppo Giovani ABM. Venerdì 8 novembre, il protagonista è stato Emiliano Dallanese, talento di Belluno Radici.net. Dalla sede della Bassosazione Bellunesi nel Mondo, in videoconferenza da Minneapolis, Emiliano ha raccontato con passione la sua esperienza di ricercatore negli Stati Uniti. In questo paese esiste davvero la meritocrazia e ci sono grandi possibilità, ha evidenziato Dallanese, l'italiano poi è ben visto e la sua preparazione universitaria, soprattutto per la laurea triennale, è superiore rispetto a quella di altri Stati. Numerose le domande da parte di un pubblico attento, mirate alla vita sociale, alla sanità, allo stipendio medio e alla qualità della vita. La vicepresidente ABM Patrizia Burigo, nel presentare Emiliano, ha fatto una panoramica del progetto Belluno Radici.net, il social network che coinvolge i talenti belunesi dalla prima alla quinta generazione e che ha raggiunto i 540 iscritti. L'associazione Bellunesi nel Mondo sta puntando a offrire un nuovo servizio per i bellunesi interessati e intenzionati a vivere un'esperienza di studio e lavoro all'estero. Questo può essere fatto grazie al contributo e all'esempio dato dagli iscritti a BellunoRadici.net. Io suggerisco a tutti di vivere un'esperienza all'estero, durante le superiori o al termine dell'università. Questo serve per aprire ancora più la mente, accrescere la formazione e per permettere di portare nuova linfa alla propria terra, ha concluso Emiliano nella sua videoconferenza durata quasi due ore.